Lo incontrai una sera così per caso. La sua dolcezza, i suoi sguardi, i suoi occhi. Aveva le fossette alle guance come un bambino appena nato. Una persona solare, gentile, sensibile, simpatica, un po' introversa, colpo di fulmine, scintilla, amicizia, amore, una sola. L'amore è ossessione, passione, follia. Esiste il colpo di fulmine? Sì, esiste. E allora cos'è l'amore? L'amore è un viaggio senza destinazione.